Il Consiglio della Camera di Commercio di Ragusa, nella riunione di mattedì scorso, ha affrontato la questione dell'accorpamento con le Camere di Catania e di Siracusa alla luce della sospensione della convocazione del Consiglio della nuova Camera di Commercio già fissata per il 28 febbraio. È stato convenuto di attendere il parere della conferenza Stato-Regioni alla quale si è rivolto il Ministero, qualora l'esito dovesse propendere per una revoca del decreto di accorpamento con Catania e Siracusa, accorpamento confermato più volte dal Consiglio Camerare in questi due anni, le associazioni di categoria prima e il Consiglio Camerare dopo potranno riesaminare l'intera problematica, ricominciare da capo e decidere liberamente tra tutte le possibili opzioni in campo. In merito alla scelta di far ripartire da zero le valutazioni del Consiglio sull'accorpamento nel caso di parere favorevole alla revoca del decreto, precisa il Presidente Peppino Giannone, è importante sottolineare che è una scelta proposta dalla Camera di Ragusa, che è stata condivisa anche dalla giunta di Union Camere regionale, e che interesserà gli accorpamenti ancora da realizzare in Sicilia. Il Consiglio, in attesa delle determinazioni che verranno dalla conferenza Stato-Regioni, ha deciso che la Camera di Commercio di Ragusa continuerà a svolgere il suo ruolo di ente a sostegno del tessuto economico del territorio ebleo, continuando a tenere in vita le iniziative rivolte alle tematiche del territorio, infrastrutture, aeroporto di Comiso, porto di Pozzallo e Scoglitti, e non solo, fondi ex Insicem, eccetera, e mantenendo le attività di supporto alle imprese di cui alcune già avviate, come Soldi Verona, Fiera Agroalimentare Mediterranea, eccellenze in digitale ed altre ancora.